Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, video dei prodotti finiti, però in questo caso sono proprio i primi prodotti finiti del 2020 Ovviamente sono prodotti che avevo già iniziato precedentemente, ma li ho terminati in questi ultimi giorni Non sono tantissimi, però siccome ho bisogno di spazio, perché qui i prodotti aumentano, non c'è mai spazio a disposizione Ho detto facciamo subito il video, così andrò subito a cestinare il tutto Quindi partiamo Allora, ve ne ho già parlato di questa e ve la mostrerò probabilmente in tutti i video dei prodotti finiti Magari anche per chi approccia da poco sul mio canale e magari non mi ha mai sentito parlare di questo prodotto Sto parlando della tinta per capelli di Noa, che io riesco ad acquistare e insomma reperire da Tigotà Io faccio il 3.0 che è il castano scuro ed è una tinta con proteine del riso e olio di semi di lino da agricoltura biologica È un prodotto professionale, senza ammoniaca e senza resorcina né parabeni ed è nickel tested Ed è una tinta eccezionale perché non brucia, non irrita il cuoio capelluto E soprattutto copre perfettamente i capelli bianchi, io ne ho tantissimi E soprattutto ho notato che mi dura più a lungo rispetto alle altre tinte Magari risparmiamo un po' di più facendo magari quella di Garnier, testa nera e così via Perché questa costa sugli 8 euro e qualcosa, 9 euro Però devo dire che la qualità è assolutamente diversa Quindi prodotto ovviamente utilizzato, terminato e già riacquistato Poi ho terminato questi dischetti che non ricordo assolutamente dove io li abbia acquistati Si chiamano Cotton Sound Gold, credo che sia la marca E sono dei maxi dischetti Perché io non acquisto mai quelli piccoli, acquisto soltanto quelli grandi E devo dire che non uso i dischetti per struccare il viso Perché mi irritano tantissimo ultimamente Ma li uso esclusivamente eventualmente per togliere qualche residuo qui sotto magari di matita Perché se vado a strofinare troppo comunque qualunque tipo di dischetto va di irritarmi Però comunque in generale questi dischetti se li trovassi nuovamente li riacquisterei perché non sono male Poi ho terminato queste strisce che io acquisto al di più Che è una catena di supermercati qui dalle mie parti E queste strisce depilatorie per il viso con la fragranza ai frutti di bosco E sono queste della cera, quella rosa, credo che sia il titanio Magari sto dicendo una fesseria Comunque sono Paraben Free E io cambio sempre, non compro sempre le stesse strisce Queste sono super super low cost perché costano pochissimo E comunque le riacquisterò perché mi sono trovata bene Ecco, hanno all'interno anche le salviette con quella soluzione oleosa Per togliere i residui e lenire un po' la parte Quindi sicuramente le riacquisto Poi ho terminato lui di Sien Questo shampoo Fruit and Vitamin Che è acquisto ovviamente da Lidl E sono gli shampoo per lavaggi frequenti Adatti proprio per tutta la famiglia Questa è una formula per il volume E per capelli normali E ha una profumazione buonissima, grumata E io consiglio vivamente questi shampoo Anche quello verde, mi pare ce n'è un azzurro Perché sono ottimi Lasciano i capelli molto profumati Soprattutto e si ha proprio la sensazione Di avere un capello e un cuoio capelluto molto pulito Non mi hanno mai dato problemi di secchezza A livello proprio di cuoio capelluto Oppure di desquamazione, di forfora Mi sono sempre trovata benissimo Poi è ovvio, tutto questo è sempre molto soggettivo Questi a casa mia non mancano mai Poi ho terminato queste salviette umide Della linea Fresh & Clean Personal Care Sono 40 maxi salviette Queste si reperiscono praticamente ovunque Salviette umidificate igiene quotidiana Con allantoina e vitamina E senza alcol Io uso queste salviette per i miei cagnolini Quindi tutte le volte che devo pulire le zampine Quando vanno fuori Non so, il musetto Oppure la zona, diciamo, dei genitali Mi trovo benissimo Sono belle spesse Sono veramente morbide, morbide spesse E quindi le riacquisto Perché hanno anche una buona profumazione E le uso magari quando mi trucco Che devo pulire le mani O devo pulire qualcosa O quando faccio gli swatch Magari durante un video Le trovo veramente molto molto utili E quindi queste le riacquisto Vado così, eh Poi ho terminato E non mi è piaciuto per niente questo prodotto Non lo riacquisterò Della linea Garnier Fructis E questo è una crema Per capelli all'aloe vera Senza risciacquo Per idratare i capelli C'è anche una versione idraricci Per i capelli ricci Specifica Allora, con aloe vera Glicerina vegetale Questa crema dovrebbe idratare E ammorbidire anche senza usare il phon Per capelli normali E può essere utilizzata Sia sui capelli asciutti Che sui capelli umidi Prima di procedere all'asciugatura Però non mi è piaciuta Solo la profumazione Mi è piaciuta moltissimo Ma per il resto Non da, non toglie nulla ai capelli Quindi è un prodotto Che almeno io posso farne tranquillamente A meno Perché sui miei capelli Non agisce in nessuna maniera Quindi assolutamente non lo riacquisterò Quello che invece ho già riacquistato Ma è stupendo Se si può dire ad uno shampoo stupendo Ultra dolce di Garnier Lo shampoo idratante Al latte di mandorla Nutriente E questa è la linea Con la linfa d'agave bio Ho preso anche il balsamo Questo shampoo è superlativo Allora, bisogna utilizzare pochissimo prodotto Perché fa tanta di quella schiuma Cremosa E morbida Che poi insomma Si perde anche molto tempo Perché i capelli ovviamente Vanno risciacquati bene bene E questo è per capelli disidratati E per uso quotidiano Dona dolcezza Brillantezza e vitalità Mi è piaciuto Ma tanto 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 Almeno sui miei capelli Ha un profumo Di mandorla amara Buonissimo Veramente buono Quindi questo lo straconsiglio E ovviamente L'ho già L'ho già riacquistato Cosa dice? Qua latte di mandorla bio Di Spagna Va bene, sì E quindi poi ho detto La linfa d'agave bio Del Messico Comunque È uno shampoo Spettacolare Questo mi è piaciuto Veramente tanto Sui miei capelli Insomma Ha funzionato Poi Ho terminato Questa crema Che avevo aperto Ormai da un bel po' di tempo E quindi era giunto Il momento Di portarla a termine Quindi l'ho utilizzata Tutti i giorni Tutti i giorni E è una crema Della linea Just Profumo Just Di Just Cavalli Buonissima E body lotion Quindi questa crema Molto molto buona Come profumazione Una profumazione Estiva Floreale Orientale Buonissima Molto molto calda E molto Sensuale E quindi Non credo Che la riacquisterò Nel senso che Mi è piaciuta Molto la profumazione Un'ottima Body lotion Molto idratante Però io non sono Proprio una fan A canita Di questo profumo Ho anche il profumo Quindi voglio dire Non credo proprio Che la riacquisterò Ma per le amanti Insomma Della profumazione Questa crema È veramente Un'ottima crema Poi Altro prodotto Per capelli Ho terminato Questo trattamento Dopo shampoo Della Sobioetic E allora Questo è Un balsamo Diciamo Per capelli Al cocco E può essere utilizzato Come impacco Pre shampoo Come maschera E può essere utilizzato Anche come Come dire Come shampoo Senza Schiuma In low Low Poo Ok E quindi Ha tre tipi Di utilizzo Non mi ha fatto impazzire Devo dire la verità Allora Io l'ho usato Fondamentalmente Questo prodotto Come balsamo Come maschera Insomma Non mi ha fatto impazzire Nel senso che Io più che notare Una maggiore Idratazione Sui capelli Notavo particolare secchezza Molti mi hanno spiegato Che quando non si è abituati Ad utilizzare prodotti Senza parabeni Insomma Con un buon inci Soprattutto quelli Che riguardano I capelli Bisogna darsi del tempo E poi continuare Ad utilizzare prodotti Appunto Bio Cosa che io Per il momento Non faccio In maniera costante Quindi probabilmente È per questo E non Mi sento di dire Che è il prodotto Che non è buono Ecco Diciamo che Per l'utilizzo Che ne faccio io Visto che lo alterno Anche ai Classici shampoo O balsamo Probabilmente Non riesce ad esplicare Diciamo Il suo effetto Benefico Sui capelli Quindi Senza siliconi Senza parabeni Formulato Molto molto bene Ma Mi riservo Insomma Di Magari Di provare Ad acquistarlo Nuovamente E con più costanza Per farmi un'idea Ma poi Definitiva Assolutamente No E No Costa anche Tanto Secondo me Per il prodotto Che è Di L'Oreal Studio Pro Curve It Quindi una mousse Per capelli Ricci Assolutamente No Perché Non funziona Sui miei capelli Quindi Diciamo Che è sempre Un Giudizio Che do Solo ed esclusivamente Per l'uso Che ne ho fatto io E per le mie esigenze Per l'esperienza Che ho avuto Quindi Non dico Che il prodotto È un prodotto Oggettivamente Non valido Ma solo Per quanto mi riguarda Quindi No Assolutamente No Sui miei capelli Non funziona Diventano proprio Come la stoppa Non definisce Il riccio Li appiccica Non mi sono Assolutamente Trovata bene Quindi questa Va di retro Non la riacquisterò Continuo Imperterrita Con la mia Moving Gommina E sono a posto Poi ho terminato Questo dentifricio Passa del capitano Allo zenzero Con antibatterico Protezione completa Rinfresca l'alito Mi è piaciuto Moltissimo Ma davvero Davvero tanto Rinfrescante Igenizzante Lascia l'alito fresco Un buon dentifricio Non fai miracoli Un buon prodotto Che sicuramente Riacquisterò Eccolo qua Il balsamo Della stessa linea Quindi Per capelli Questo è per capelli Sempre disidratati Dona dolcezza Idratazione Quindi con latte Di mandorla nutriente Il balsamo Il balsamo Idem Come per lo shampoo Favoloso Anche tenendolo su 50 secondi E subito Da queste A questo potere Fortemente Districante Lisciante Ammorbidente Del capello Profumazione Paradisiaca Assolutamente Ricomprato Anche il balsamo Ottimo prodotto Poi lascia i capelli Molto morbidi Profumati Poi tra l'altro Questa linea Se non sbaglio Dunque L'impegno di Ultradolce Per questa ricetta Quindi un flacone 100% Riciclabile 98% Degli ingredienti Di origine naturale Contiene ingredienti Provenienti Da Fonti rinnovabili Insomma Comunque È formulato Rispetto ai vecchi Garnier Gli shampoo Che realizza Adesso sono Formulati Abbastanza bene Diciamo Meglio rispetto A quelli precedenti Poi Io di questo Ve ne avevo già parlato Sono riuscita a trovare In un supermercato Miracolo Qui da me Qualcosina Di Sobio E l'ho riacquistato Io il primo flacone Lo avevo acquistato In Francia E mi era piaciuto Moltissimo E quindi L'ho trovato L'ho riacquistato È lo Floreal Rose Biologique Di Sobio Praticamente Questo è Un idrolato Insomma Le rose Quindi un prodotto Che può essere utilizzato Come tonico Come spray rinfrescante Come fissante Per il make up In estate Per rinfrescarsi Anche sul collo De coltè Insomma Sono prodotti Che possono essere utilizzati Un po' Come ci pare Ma sul viso È fantastico Con questa profumazione Leggerissima Di rose È perfetto Come tonico Va a riequilibrare Il pH Della pelle A chiudere i pori A dare un effetto Molto luminoso Alla pelle Quindi questo Certamente Lo acquisterò Nuovamente Tra aprile Maggio Insomma Quando vado in Francia Nuovamente Da mio fratello Insomma Lo riacquisterò Sono elettrica Per questo viaggio Non vedo l'ora Che trascorrano Questi mesi Poi ho terminato Questo prodotto Fantastico Mi è piaciuto molto Di Botanicals Prodotto che io Trovo da Tigotà Ma l'ho visto anche Al Tulipano Comunque Nella grande distribuzione Che cos'è? Allora Questo è al geranio Rimedio di brillantezza Ed è un aceto Illuminante Per capelli Per capelli colorati Per capelli spenti Che dona vigore Luminosità Ai capelli Mantiene più a lungo Il colore Può essere utilizzato Sui capelli asciutti Una bella spruzzata Perché non unge Non cola Non sporca E un liquido In pratica è aceto Una soluzione a base di aceto Che va a dare lucentezza al capello Ma Spruzzato Sui capelli umidi Prima di procedere con l'asciugatura Da il meglio di sé Perché i capelli sono proprio lucidi Brillanti Ma ha una brillantezza naturale Non unge il capello Quindi è un prodotto eccezionale E poi Una profumazione Buonissima Un floreale Un po' balsamico Veramente Un prodotto Fantastico Questo lo riacquisto Assolutamente Soprattutto spruzzato Sulle punte Va a dare un po' Non è un mio video Dei prodotti finiti Se non c'è un bel casino Di rotolamenti Va bene Mi perdonerete E Vi stavo dicendo Lo riacquisterò Perché poi sulle punte Da questo bel effetto Proprio di lucentezza Questo lo riacquisto Ma lo compro nel formato Diciamo nel barattolo Perché Pazzesco Stupendo Allora Questo è uno scrub Corpo Al sale marino Mi sono state date Due confezioni Di questo scrub Una L'avevo utilizzata Ma avevo dimenticato Di inserirla Nei prodotti finiti Di Biopoint Io non ho mai visto Una cosa del genere Non ho mai usato Qualcosa di così Efficace Allora Questo è un prodotto Nickel tested Senza parabeni Senza oli minerali Alcol e coloranti Quindi formulato Molto molto bene E Agisce Perfettamente L'ho utilizzato Proprio sui glutei Cosce Gambe Rende la pelle Liscia Come quella Di un neonato E soprattutto È talmente corposo Talmente denso Che ne basta Pochissimo E poi Non serve Assolutamente Applicare Una crema Idratante Perché lascia La pelle Morbidissima Idratata Super elastica Mi è piaciuto Troppo 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 Quindi scrub Corpo Al sale marino Di Biopoint Con sale marino Sabbia bianca Alghie marine Olio di moringa E olio di monoi È stupefacente È una profumazione Paradisiaca Quindi questo Assolutamente Lo acquisto Me l'hanno dato Al Tigotà E penso che andrò Proprio lì Ad acquistarlo Poi Di Sien Ho finito questo Tropical Summer Foot Gel Ora io non ricordo Se fosse una Limited Edition Questo prodotto Perché Mi è capitato Di trovarlo Ancora tra gli scaffali Da Lidl Un gel Con Panthenolo E vitamina B3 Un gel Rifrescante E idratante Per i piedi L'ho utilizzato Tutta l'estate L'ho utilizzato Anche adesso Dopo la doccia Buon prodotto Se lo trovo Lo ricompro Efficace Si asciuga Immediatamente Da una bella sensazione Di freschezza E di relax Di calma Al piede Soprattutto Quando i piedi Sono stanchi E affaticati E quindi questo Lo riacquisto Senz'altro Poi ho terminato Questo prodotto Che grazie a Dio Non mi ha dato problemi Sulla pelle Di Himalaya Herbals Brand che io trovo Al Tigotà Sempre O al Tulipano Ovviamente E' uno scrub Esfoliante Dedicato Alla noce Può essere utilizzato Quotidianamente Tutti i giorni Su un viso Deterso Pulito E umido E va massaggiato Delicatamente Anche se i microgranuli Sono appunto micro Perché sono piccoli Bisogna comunque Andare Soprattutto se avete La pelle molto sensibile Sempre in modo molto delicato Perché altrimenti Insomma Danneggiamo La pelle Però il prodotto E' davvero delicato Può essere utilizzato Tutti i giorni Va a rimuovere Le impurità Va a rimuovere Se lo utilizziamo Al mattino Tutti i residui Dei trattamenti Che abbiamo utilizzato La sera precedente Rende la pelle Molto liscia Levigata E soprattutto Purificata Quindi questo Mi sa Che lo riacquisto Poi ho terminato Questo prodotto Che è un nì Prima mi era piaciuto Poi non mi è piaciuto Ma credo che i prodotti Per capelli Abbiano un'efficacia Diversa Secondo i periodi Dell'anno Ci sono dei periodi In cui un prodotto Mi fa impazzire E funziona E dei periodi In cui non funziona Ma non dipende Credo dal prodotto Dipende dal capello Che durante l'arco Dell'anno Cambia E' più sottile Più debole Più secco Più grasso In questo periodo Dell'anno Questo prodotto Per me Non lo so perché Ma non è andato E' un olio spray Fortificante Nutriente Per capelli fragili E stressati All'argan Ultimamente L'ho utilizzato L'ho portato a termine Ma Ve lo avvicino Così lo vedete Però Niente Non mi piaceva Non mi piaceva L'effetto sui capelli Un effetto troppo pesante Malgrado io lo utilizzassi In piccolissime quantità L'ho fatto utilizzare Anche a mano Adesso anche i miei Insomma Per poterlo portare a termine Piccole quantità Sui capelli umidi Ma No Assolutamente no Non mi piaceva Mi sentivo il capello pesante Lucido Troppo lucido Quasi unto Quindi Non lo riacquisterò Assolutamente Anche se Ripeto E' probabile che dipenda Da questo periodo dell'anno Poi Ho terminato Questa maschera Che mi era stata regalata Da Alexandra La mia amica Dolcissima Alexandra Che saluto Questa è Una maschera Di Yves Rocher Era stato un suo Un suo dolcissimo regalino Questa maschera appunto Di Yves Rocher Con Espino amarillo All'olivello Appunto Olivello spinoso E' una maschera E' una maschera Molto molto delicata Rinfrescante Addolcente Non mi ha dato Nessun fastidio Quindi è un prodotto Che certamente Riacquisterei Perché è molto delicato E perfetto Per la mia pelle È una classica maschera Una classica maschera Di Kiehl's L'olio al muschio Non ce n'è per nessuno Oddio C'è qualche altra cosa Che può concorrere con lui Che è il muschio di Acampora Che è la sublimazione Dell'olio al muschio Però questo È veramente Meraviglioso Un prodotto fantastico Il classico muschio Proprio che sa Di bosco Un muschio Un muschio rude Un muschio selvatico Veramente una profumazione Pazzesca Kiehl's Almeno ricordo Che faceva anche La versione Eau de parfum O de toilette Comunque della stessa profumazione L'olio è strepitoso Quindi Se mi ricapita È un prodotto Che acquisto Senz'altro E che vi Straconsiglio Se siete Amanti del muschio Ma il muschio Non il muschio Della buonanotte Quello Insomma un po' così All'acqua di rose Il muschio Quello bello Strong Poi ho terminato Lui Questo detergente Che è Della linea Planet Spa Di Avon Un prodotto Che mi è piaciuto Moltissimo Devo dire Ed è il Corean Car Car Insomma Al carbone Cleanse And refine Quindi con Carbone coreano E questo è Un Era Un Non credo che riuscirò Sì Era in questo Colore qui Vedete Scuro Un detergente Al carbone Appunto Per Le impurità Per Le parti Del viso Appunto Maggiormente Grasse A me è piaciuto Io mi sono trovata Benissimo Delicato Non irritava Non irrita Non secca È un ottimo prodotto Diciamo da utilizzare Magari al mattino Quindi non è un prodotto Per lo struccaggio È un semplice prodotto Per la detersione Perfetto Secondo me Al mattino Perché va a togliere Tutti i residui Delle creme Dei sieri Che abbiamo applicato Quindi a rinfrescare Anche la pelle Del viso E quindi Planet Spa Di Avon Questo sicuramente Lo riacquisterò E poi c'è tutta Una linea Completa Dopodiché Ultimo prodotto Ho terminato L'ennesima Dell'ennesima 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 Io non riesco A terminare I prodotti di makeup Se non Matite per sopracciglia Perché sono evidentemente Il prodotto che Utilizzo Utilizzo Di più In assoluto E poi non cambio Quindi È ovvio che Anzi Vi dirò Che io oggi Ho utilizzato La matita di Astra E devo dire Che Non mi entusiasma Non mi piace E strano Perché io adoro I prodotti di Astra Ma è troppo Burrosa Troppo morbida Questa micromina Che è precisissima Però proprio La texture Della matita Non mi fa Impazzire In base Ai miei gusti E a come Io mi trovo meglio A gestire A ricostruire A ridefinire Scusate Le mie sopracciglia Quella che in assoluto Io trovo Più performante Per me Questa Che è sempre La stessa Che è sempre la stessa Della 24 ore Brow Micropencil Di Deborah Milano E ormai Ve l'ho fatta vedere In 10.000 salse Vedete qua Non c'è più niente Ma anche Quella di Wicon Che mi piace Moltissimo Che sto cercando Di Tenere Far durare Il più possibile Perché io non ho Wicon qui Dovrei prenderla online Non mi scoccia E quindi Cerco di utilizzare Di più queste Che riesco a Reperire Con maggiore facilità Quindi La 24 ore Brow Micropencil Di Deborah Ve l'ho fatta vedere Già migliaia di volte Quindi Ragazzi Il video Finisce qui Io vi ho mostrato Di tutto 26 minuti di video E vai Non c'è verso Di fare dei video Più brevi E Spero che il video Insomma Vi sia stato utile Che vi abbia tenuto Compagnia Ovviamente Grazie Come sempre Agli iscritti Di sempre E ai nuovi iscritti Che sono sempre Tantissimi Vi mando Tanti tanti bacini Come sempre Grazie E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Ciao